Lo zaino di Luigi è nuovo Lei va sempre a casa in moto Usciamo da scuola alle due Uso il telefono di un amico Ho messo i vestiti in valigia Luca dice qualcosa a Giulia Sono salito su un autobus Mi piace andare in bicicletta Sono stato al Museo Nazionale Ho letto un libro di avventura Studio molte canzoni per piano In Messico cade molta pioggia Ho messo due piatti sul tavolo A casa mia ho alcuni animali Stare Io sto Tu stai Lui, lei sta Noi stiamo Voi state Loro stanno Andare Io vado Tu vai Lui, lei va Noi andiamo Noi andiamo Voi andate Loro vanno Vedere Io vedo Tu vedi Lui, lei Lui, lei vede Lui, lei vede Noi vediamo Voi vedete Loro vedono Noi andiamo Io do Tu dai Lui, lei dà Noi diamo Voi date Loro danno Parlare Parlare Io parlo Tu parli Lui, lei parla Noi parliamo Voi parlate Loro parlano Sentire Io sento Io sento Tu senti Lui, lei sente Noi sentiamo Voi sentite Loro sentono Guardare Guardare Io guardo Tu guardi Lui, lei guarda Noi guardiamo Voi guardate Loro guardate Loro guardano Loro guardano Mettere Io metto Tu metti Lui, lei mette Noi mettiamo Noi mettiamo Voi mettete Loro mettono Loro mettono Noi lasciamo, voi lasciate, loro lasciano. Di che colore è l'auto? Sai giocare a calcio? Certo che potete andarci. Vai alla scuola media? Perché non fai i compiti? 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 Voglio giocare a carte. Lei è Giovanna. Voi avete quindici anni. Voi fate i compiti per domani? Voi fate i compiti per domani? Loro vogliono studiare qui. Io mangio una pizza. Io mangio una pizza. Non voglio andare al cinema. Qui a destra c'è il bagno. Come stanno i tuoi figli? Io mi chiamo Stefano. Io mi chiamo Stefano. Quanti anni ha tuo figlio? Loro sono i miei amici. Mi piace lo zucchero. Loro sono i miei amici. Mi piace lo zucchero. Lui regala i suoi giochi. Voi venite a casa stasera. Luca è più giovane di Emma. Io sono meno alto delle mie cugine. Tu sei intelligente come lui. Lei è più alta di sua nonna. Questa casa è meno bella dell'altra. Lisa è intelligente come Anna. La mia auto è più veloce della tua. Siamo meno competenti di loro. Il cane di Luca è calmo come il mio. Io non sono più intelligente di lei. Loro sono meno ricchi dei tuoi amici. Claudia è stanca come suo cugino. I miei amici sono più bassi di me. Lei è meno giovane di sua sorella. Tu sei vecchio proprio come noi. ci sono più studenti che insegnanti. Leggo meno romanzi che riviste. il lavoro è tanto noioso quanto faticoso. Luca non è più sveglio di Davide. Giulia ha meno fratelli che sorelle. Lui ha tanta energia quanto sua figlia. Claudia è più bella che geniale. tu non guardi meno film che serie. Ci sono tanti coltelli quante forchette. non me ne andrò prima di aver finito. Ogni sabato viene a mangiare da noi. in alcuni giorni lo vedevo sempre. I miei amici vengono tutti da Torino. Luca si è trasferito in campagna. avrà quindici anni tra due giorni. Mi aspettava con le mani in tasca. Sono stato a casa per tre settimane. Siamo stati svegliati dall'esplosione. Ieri sera siamo andati al cinema. Domani sera andremo a teatro. I miei amici arrivano fra due giorni. È da una settimana che sto male. Io ce l'ho fatta a finire in un'ora. Domani parlerò di voi alla professoressa. Non ho dato niente a voi ieri. Sicuramente parlerò di loro al professore. Non scrivo mai a loro. Preferisco telefonare. Forse parlerò di loro al professore. No, non scrivo mai a loro. mia sorella telefona solo a lui per studiare. Sì, io conosco proprio lui molto bene. Ieri ho dato il tuo indirizzo anche a lei. Forse esco con lei stasera. Marco e Maria, quando uscirete con noi? Signori, quando telefonerete a noi? Claudia chiama solo me ogni sera. Giovanni ha dato a me la sua penna. Claudia ha telefonato a te, non è vero? Lui vuole che io ti chiami stasera. Dottore, chiamo lei e non l'altro medico. Professore, le do il mio compito domani. Lo chiedo a te. Sono tra due auto. Ti scrivo da lontano. Ti scrivo da lontano. Sono per strada. Sono di Venezia. Da noi piove. Vado a piedi. Vado a piedi. Il libro di Maria. Mi siedo su una sedia. Sono in piazza. Esco da casa. Dormo in tenda. Sono a casa. Fra tre giorni parto. Ho un regalo per te. Viaggio in treno Ero con Luca Vengo da Roma Non ho studiato perché stavo male Non è solo bella, è anche ricca La stanza è piccola, ma almeno è pulita Sta per piovere, infatti è nuvoloso Tra l'altro non sono neppure stato avvertito Questo film è così noioso Parla chiaro così che lui capisca Non è divertente, però è necessario Prendo una bibita invece del caffè Sono invitati tutti tranne Claudia Non posso venire prima di domani sera A quei tempi andavamo in giro insieme Ho visto quel film solamente una volta Ci siamo visti in piazza qualche mese fa E allora che cosa facciamo? È davvero tardi, adesso me ne vado Mentre lei dormiva ho cucinato la cena A questo punto non so più cosa fare Alla fine non abbiamo mangiato nulla Prima studiamo e poi usciamo Sono arrivato giovedì, cioè ieri Alzarsi Tu ti alzi Annoiarsi Lei si annoia Arrabbiarsi Lui si arrabbia Alzarsi Io mi alzo Dimenticarsi Noi ci dimentichiamo Divertirsi Voi vi divertite Lamentarsi Io mi lamento Lavarsi Loro si lavano Mettersi Tu ti metti Preoccuparsi Lei si preoccupa Prepararsi Lui si prepara Sentirsi Noi ci sentiamo Sposarsi Voi vi sposate Svegliarsi Loro si svegliano Vestirsi Lui si veste Ieri Vittorio È andato dal medico Francesco È nato a Roma I ragazzi Sono rimasti in città Lucia È uscita di casa alle sette Barbara e Irene Sono venute in Italia Matteo È uscito con gli amici Ieri Marco Ha guardato un film Quando Sei tornato dalle vacanze Gli studenti Hanno fatto una gita Le ragazze Hanno parlato Della scuola Grazie a tutti Grazie a tutti